2 novembre 2004. Ad Amsterdam viene accoltellato e poi ucciso con un colpo di pistola il regista olandese Theo Van Gogh. Ad assassinarlo è un estremista islamico reo confesso Mohamed Bouyeri. 47 anni, 20 film all'attivo, Van Gogh aveva ricevuto minacce di morte da estremisti islamici dopo che la tv aveva trasmesso il suo film Sottomissione sul Corano e sulla violenza contro le donne nella società islamica.